Si è tenuta ieri a Giffoni 6 Casali l'inaugurazione dell'ambulatorio veterinario realizzato in via Capo Casale nei locali messi a disposizione dal Comune. Il nuovo presidio, l'unico presente nei Picentini, offrirà numerosi servizi a cani e gatti randaggi, oltre che interventi di primo soccorso agli animali feriti. Questo ambulatorio veterinario dell'ASL è destinato sostanzialmente al rispetto della legge 16 del 2001, con la quale si regolano un po' tutto quello che è il randaggismo e le attività connesse al randaggismo e di competenza dell'ASL. Mi riferisco in particolar modo alla serilizzazione dei cani e dei gatti randaggi, nonché al primo soccorso per gli animali feriti per strada in località pubblica, e sempre randaggi parliamo, e della serilizzazione e della microcippatura di tutti i cani. Questa è un'attività totalmente gratuita a carico dell'ASL e questa attività verrà effettuata al mattino e in orario che verrà stabilito prossimamente, compatibilmente con tutte quelle che sono le altre attività del servizio. Con l'istituzione dell'ambulatorio veterinario completiamo quello che è una collaborazione con l'ASL locale. Questo ambulatorio veterinario è un servizio in più alla collettività, non solo di Giffoni Seigasali, ma dell'intero territorio dei Picentini. Quindi come amministrazione comunale siamo orgogliosi di aver istituito questo ambulatorio. Per noi la intensificazione dell'attività di assistenza agli animali di affezione è uno degli obiettivi principali. Questo è l'ottavo ambulatorio veterinario che è presente nella nostra ASL, in tutto il territorio di ASL Salerno. Attraverso questa attività viene sviluppato innanzitutto l'attività di sterilizzazione delle colonie feline e dei cani. E poi è un ambulatorio anche finalizzato alla individuazione dei cani randaggio e quindi si evita che questi cani gironzolano senza nessun tipo di proprietario. Si fa un monitoraggio di questi animali che oggi sono sempre più presenti e che sono indispensabili soprattutto per le persone sole. Questo è il motivo per cui ASL Salerno ha sviluppato e guarda con molta attenzione e particolare impegno questa assistenza che viene garantita a questi soggetti.